Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze e Scandici e il Vivio per la variante di Valico. Fare attenzione per un incidente segnalato all'uscita dello svincolo di Arezzo. Sulla Fibili in direzione mare personale su strada tra Santa Croce, sull'Arno e Ponte d'Era Est. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Sulla regionale due cassi a restringimento di carreggiata nei comuni di Barberino e San Casciano-Val di Pesa all'altezza del chilometro 270. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!